sentite che sta dicendo questa è mandare tutta la polizia, un'ambulanza la potevano prendere e si mandano i punti della polizia a fare una affronta non si spinge con un camion di immondizia non solamente la polizia non solamente la polizia cioè qua danno un po' la fai la reggete per favore i polsi, i polsi, i bagnarei le tempie, le tempie, le tempie a dove?